Tempo fa mi capitò tra le mani la rivista Famiglia Cristiana, nella quale veniva riportato una lettera che mi lasciò una tristezza indescrivibile. Sono costretto a riportare solo qualche espressione. Mio padre ha un amante e non posso descrivergli quello che ho sofferto quando l'ho constatato. Per me lui era un esempio, un uomo eccezionale, un padre affettuoso. Come ha potuto farmi questo? Come ha fatto a non pensare alla mamma, che tra l'altro è una donna meravigliosa, dolce, buona, simpatica, socievole e bellissima? Ti prego, caro direttore, di pubblicare la mia lettera, perché so che mio padre legge sempre Famiglia Cristiana. Chissà che mio padre la legga e ritorni sui suoi passi. La lettera mette a fuoco un problema molto serio, la crisi della famiglia nella società moderna. La cultura permissiva è frutta anche di film e delle telenovelle e spettacoli che trattano il problema sessuale esclusivamente in una forma edonistica. La vita nella sua abitudine matrimoniale e la mancanza di accensioni possono diventare causa di evasione. E' importante allora fuggire la monotonia di tutti i giorni, uscire per una passeggiata, andare ad uno spettacolo, visitare parenti e ammalati, una visita ad una chiesa per una preghiera. Io spesso cito degli episodi di Padre Pio che magari con i confratelli faceva degli scatti fuori posto alzando la voce, ma subito dopo chiedeva scusa, prendeva la scatoletta delle mentine e diceva tieni, prenditi una caramella. Io mi sono trovato ad alzare la voce, ti chiedo perdono. Riconciliare, riportare l'affetto, riportare l'amore. Poi Padre Pio ha avuto una schiera di figli spirituali che vivevano intorno a lui, facevano sacrificio per stare giorno e giorno a San Giovanni Rotondo. E qual era il motivo di questa attenzione, di questa forte folla di figli spirituali? Ascoltare i consigli di Padre Pio che generalmente portavano alla formazione del carattere, cioè non essere delle banteruole, ma persone forti e volitive per fare il bene a noi stessi e il bene ai nostri fratelli. Grazie a tutti.